La C-Beach Lifestyle di Trapani ha ospitato ieri pomeriggio la presentazione dell'offerta commerciale per la prossima fiera sul turismo, la TTG Travel Experience, che si terrà a Rimini dal 12 al 14 ottobre prossimi. Sotto il denominatore comune di The Best of Western Sicily, già alla BIT di Milano, alla presenza dei rappresentanti dei comuni del territorio e delle aziende, è stato il CEO dell'Agenzia di Comunicazione Feedback che cura il progetto, Marcello Orlando, ad illustrare dapprima gli ultimi dati sul turismo e poi concretamente il progetto e l'offerta a cui prender parte per continuare a pensare ad una promozione turistica che si traduca in un'offerta variegata in base alle diverse peculiarità del territorio, ma che si traduca in un'idea di rete che tanti risultati sta dando in ottica di valorizzazione del territorio. A porgere i saluti anche Massimo Merino, presidente di Telesud, in partnership con Feedback per il progetto. Ad intervenire anche l'assessore al comune di Trapani e presidente del distretto turistico Rosalia Dalì, che si è detta disponibile a pensare ad un'idea comune di operatività tra il privato, The Best of Western Sicily, e la fondazione distretto turistico. A prendere la parola anche i sindaci e gli assessori presenti, nonché i rappresentanti delle aziende coinvolte, già presenti in BIT, molti dei quali si sono detti già favorevoli alla partecipazione alla TTG. Dall'incontro di ieri sono venute fuori anche proposte, idee e suggerimenti che possano migliorare ulteriormente quella che è l'idea portante di The Best of Western Sicily, già pronto a prendere parte ad un evento così grande. Appuntamento allora alla prossima TTG di Rimini. Grazie a tutti.